Cifra alla mano, l'assessore ai lavori pubblici di Chieti Colantonio replica alle insinuazioni anche pesanti di Ance. Non è vero che il comune di Chieti non fa lavorare le imprese chietine o abruzzesi? Tra marzo 2010 e marzo 2013 sono oltre 350 affidamenti, circa il 90%, qualcosa in più del 90% sono stati affidati a ditte abruzzesi e di questo 90% oltre la metà sono stati affidati a ditte della città di Chieti. Una minima parte sono andate a ditte fuori regione, ma questa è una logica del mercato perché quando si partecipa a delle gare vengono effettuati dei ribassi e può capitare, succede che chi partecipa alla gara faccia un ribasso che dia comunque garanzia di economicità all'ente e soprattutto di rispetto della qualità del lavoro e noi dobbiamo attenerci alla legge, il lavoro viene aggiudicato anche a ditte di fuori. E' vero c'è un problema con la burocrazia e la tecnocrazia, ma gli uffici del comune sono aperti e disponibili agli imprenditori tanto e di più che in altri comuni. Sono confrontati con orari del comune di Teramo, del comune dell'Aquila, del comune di Latina e come avete notato il comune di Chieti sta aperto più ore e più giorni rispetto a tanti altri comuni. Dopodiché c'è chiaramente un rispetto delle regole ma soprattutto c'è un filtraggio delle persone che entrano. Anche i giorni di chiusura le persone possono entrare però previo appuntamento con funzionari o tecnici o amministratori e tramite il filtraggio di un usciere entrano in comune.